I attivisti e le attiviste di Salerno Animal Save e Salerno Climate Save il giorno 19 gennaio 2021 durante lo svolgimento di una giornata di perlustrazione in spiaggia si sono imbattuti nel ritrovamento della carcassa di un bufalino in località Licinella. Si è provveduto tempestivamente ad allertare e segnalare l'accaduto alle guardie ecozofile di Salerno e provincia una prima volta il giorno 19 gennaio e una seconda volta dopo circa una settimana. Nonostante le segnalazioni, la rassicurazione ricevuta in merito alla rimozione del corpo del bufalino nella giornata di sabato 6 febbraio siamo ritornati in spiaggia e abbiamo constatato che la carcassa del bufalino è ancora abbandonata nello stesso punto del primo ritrovamento ormai in avanzato stato di decomposizione recintata da un semplice nastro e strisce rosse e bianche tra i numerosi passanti che sono soliti passeggiare sulla spiaggia. È possibile verificare la veridicità di quanto affermato, fanno sapere i volontari, dalla testimonianza a video che abbiamo registrato e che è possibile visionare alla pagina Facebook Salerno Animal Save. Ieri pomeriggio abbiamo inviato una lettera al sindaco del comune di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, in quanto prima autorità responsabile della salute pubblica dei propri concittadini e al Dipartimento di Prevenzione dell'Asla di Salerno, chiedendo un intervento immediato che porti alla rimozione del corpo del bufalino e alla sanificazione dell'aria interessata. Stiamo vivendo un'emergenza sanitaria dovuta all'attuale diffusione del coronavirus e chiediamo alle istituzioni competenti di prendersi la dovuta responsabilità sull'abbandono di una carcassa in avanzato stato di decomposizione su una spiaggia dove tanti cittadini sono soliti recarsi. Contiamo nel pronto intervento e nella diffusione della verità da parte delle istituzioni pubbliche perché i cittadini hanno il diritto di conoscere le crudeltà che ci nascondono dietro la produzione delle mozzarelle di bufala e il tasso di inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque provocato da queste industrie. Come movimento auspichiamo ad una riconversione di queste realtà in produzioni etiche e sostenibili.